si sta raggiando precario Siamo venuti qua per fare gli amuri a tutti quanti perché oggi è l'ultimo dell'anno il primo gennaio 1922 ma che 1220? non ci fate caso siamo nel 2020 30 anni di colore mamma mia ancora c'è la zio Lucca mi manca perché mi si è levato è il tempo che lo passa comunque tanti auguri e buon anno nuovo a tutti a tutti quanti mi è venuto il dubbio che ho iniziato si è iniziato va bene questo telefono si legge precariamente perché non si sa ecco ora c'è una persona che lo tocca sembra che c'è il terremoto vediamo se si legge sarete 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 va bene siamo venuti qua darvi tanti auguri del fine dell'anno e dell'inizio dell'anno speriamo che nel 2020 è un anno migliore per tutti non solo per noi ma per tutti tutti quanti le persone che mi stanno guardando sono scritte e per tutti vabbè le persone che sono scritte che mi seguono tanti anni vi ringrazio vi darò l'augurio a fine dell'anno e l'inizio dell'anno per quelli nuovi grazie a tutti e le persone che passano nel mio canale spero che cliccate scrivete la campanellina io spero sempre più persone siamo e più io sono felice e il prossimo anno cercherò di fare migliori video sempre migliorarmi sempre di più io cercherò di quello però non posso fare perché sono stupida mi dicono che è stupida mi dicono che sono stupida e sono stupida mi dicono che è vecchia perché sono vecchia poi gli dicono che è brutta sono brutta ma se vuoi l'anno nuovo diventa più bella eh da domani vedremo eh da domani divendo più carina eh vabbè cercherò di fare più video mi troppo con voi che mi hanno detto che mi piacciono tanto la pulizia della casa eh però eh mi ci vuole di più tempo perché non ti posso mettere tutti i giorni perché non mi faccio eh vabbè l'anno nuovo vediamo l'anno nuovo vediamo si organizza meglio si organizza meglio come dice il vetrino come dice il gigino il vetrino il vetrino va bene io stasera andiamo oh mocio mocio beh no perché dopo io dovevo da Sant'Orestre perché è a Stenia è meglio per non bere mangiarsi speriamo che non mi fanno male niente perché se no stasera mangiare 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 ma io mangio tutto l'anno non c'è bisogno manciamo beviamo per me non c'è bisogno né Natale né Capodanno né Pasqua né niente perché io mangio sempre mangio tutto l'anno che si vedi si ma mangio sempre per i più uguali mi fai un po' ingraziato ma non è perché mangi quello è cortisone eh eh vabbè è cortisone eh 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 perché il cortisone gli fai di più a pedito perciò perché non è comunque però oggi è una bella giornata pure io è cortisone oggi è una bella giornata però stamattina è tutto gelato eh fa freddo la mattina la sera fa freddo eh tira un vento freddo tira eh sì vero è calda eh sì ma già è passata mezza giornata quasi via l'anno vecchio entra l'anno nuovo l'anno nuovo speriamo che è meglio non lo so vediamo 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 comunque buone feste ancora è buona anno nuovo è forte tanto tanta allegria e vero amato peccato non posso registrare quando scocca l'anno nuovo perché c'è sta gente non so eh vabbè 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 non so comunque vabbè buon anno a tutti buon anno a tutti 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 e se vi piace questo piccoletto piccolo video mettete pollici pollici in su suuuu e la campanellina chi chi passa e si vuole scrivere scrivere che si forza di uno di ecco fatto forse ecco vedete vedete per il nord io non voglio dire ma ancora a me vedete eccolo i capelli si è fatti i capelli si è fatti i capelli me li sono tagliati quando ho preso la macchinetta quando mi favo la barba faccio così mannaggia mi sei lasciato 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 la macchinetta sempre sopra chissà perché è una cosa assurda me ne metto ecco ciao a tutti buon anno nuovo è stato in basioni e buon 2020 stavolta non mi sono sbagliato avevi detto prima 2019 che è? 1995 non mi ricordo comunque è una cosa del genere 20 ha detto eh anche se stavamo a me i due vecchi erano 50 anni e non c'era senza dura però non ci stavamo ancora vabbè ciao e buon pranzo ciao buon pranzo e buonasera per stasera e divertitevi 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 balliamo qua e chi è? e chi va a ballare? non andare con le macchine non andare con le macchine embriati io non mi ero fatti andate un po' piano se no possiamo riposare questo qui posso dire basta non posso dire niente via e non andare con i capelli rossi e non andare con i capelli rossi mi dicono bello i capelli rossi ok ciao 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 auguri 2020 ciao 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 a tutti